è una serata a cui ci ho tenuto veramente con tutti il cuore perciò un attimo di pausa è il tempo di fare le prove iniziamo lo spettacolo prima iniziano i miei amici del gruppo Ice Cream Doppio Senso perciò una serata questa sera veramente bellissima a questa condizione anche se questa condizione senso non ce l'ha sai che cosa ha pensato che se non ha un senso non agli arriverà non agli arriverà lo stesso